L'usanza dei vini, siccome abbiamo detto che il pane è la roba più preziosa che ci sono, per il resto abbiamo tutti in dibattito, abbiamo la bestia per la carne, abbiamo il porcello, abbiamo il ciotini, abbiamo la vacca, abbiamo il vedello, abbiamo tutto, è quello che manca il pane e un'usanza da fare beneficenza per i veri altri, i paesani, quando il morire a Rego, gli fanno un lascito, gli dicono che magari hanno scritto sul testamento di fare l'emosina di pane una volta al mese, per cinque volte, fare l'emosina di pane per soffraggio dalla nona, dalla bisnonna, e l'emosina di pane vuol dire da fare su un brecciadello per ogni abitante del paese, da Livigno e da Treppal, e l'abbiamo distinguita, se l'agra per Livigno o Treppal, sempre per Livigno, comprande sempre e anche Treppal, e allora, sa quando l'ultima, è l'emosina che ho fatto su me, c'erano 1600, sedas o 1620, fanno 1600 brecciadelli per cercare un pan per ogni paese, mamma, famiglia, barcini, e anche se erano stanno sui, gli hanno già diritto un brecciadello da Sia, un brecciadello dell'emosina. L'emosina, a un certo punto, gli hanno smettuto di fare l'offerta perché l'hara più un'offerta, perché il pan, una settimana dopo la rasseggio, gli hanno dato una mulla, e gli hanno dato più per mantenere la popolazione, per aiutare, quando mancava l'ergot, quando mancava il pan, gli hanno dato il pan, e senza dare il pan per dargli alla lase, gli hanno dato più una beneficenza. Grazie a tutti.